Foglie di mostera per un'estivissima atmosfera Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Non è bellissimo questa ciotola? È una foglia di mostera e la cosa bella è che arreda subito d'estate la vostra casa Che sia una casa in città, al mare o in campagna, sul tavolo non può mancare un piatto così Porta oggetti, qualcosina ce la metterete sicuramente da mettere in bella mostra Magari accompagnata da una ciotolina più piccola in cromia leggermente differente E perché no? Abbiamo fatto due? Facciamo tre Un piattino magari per raccogliere i nostri anelli, i nostri gioielli Quello che più ci piace Sapete con cosa le ho fatte? No? E allora prima di scoprirlo di là Cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti Andate a comprare il ricettario dell'arte Lo trovate in tutte le librerie Vi lascio tutti i link qua sotto E seguitemi su Arte per te ovunque Su TikTok, su Instagram, su Facebook Lì ci sono i corsi di disegno e di tecniche pittoriche Mi raccomando, ora stiamo concludendo il ciclo di quest'anno Ma vi aspetto numerosi per le nuove iscrizioni di settembre Quindi scrivetemi nei messaggi privati E palesatevi se volete iscrivervi in un corso di creatività e arte Io sono qui apposta per voi Bene, ora basta parlare e andiamo a creare Creiamo le nostre ciotole a forma di foglia di monstera Io me ne sono innamorata E allora andiamo di là e vediamo la bellissima monstera come si fa Ecco l'occorrente per creare le nostre bellissime foglie decorative Portaoggetti, abbellimento per la tavola Vediamo insieme Un panetto di pasta modellabile Io questo ho preso da Tiger, va bellissimo il DAS Qualunque pasta modellabile Dell'acqua Una spugnetta Una ciotola bella bombata per dare la forma Un mattarello Un cutter Colori acrilici Un pennello Dell'acqua per stemperare il colore Una base d'appoggio che sia antiaderente E soprattutto non faccia appiccicare la pasta modellabile su di essa Ci occorrerà anche qualche pezzettino di carta abrasiva E qualcosa per fare i bordi dorati Io qui ho un marker dorato Ma in commercio ci sono anche dei liquidi assolutamente dorati pronti per l'uso Oppure dei pigmenti da stemperare in gomma lacca Quello che più vi pare Potreste anche usare la doratura in fogli volendo E la missione E poi del flatting lucido all'acqua Iniziamo subito Come prima cosa prendo il mio panetto di pasta modellabile E lo stendo con uno spessore di mezzo centimetro circa Raggiunto lo spessore desiderato Liscio Con una spugnetta Per eliminare eventuali crepe E adesso disegno la mia foglia Proprio direttamente sulla pasta modellabile La forma è una forma a cuore Quindi prendo la parte più ampia E con la matita Proprio delimito Se vedo che mi mancano dei pezzi Li elimino da una parte E vado a rimpingarli Lì dove mi occorrono Ripasso con il mattarello Giro verso di me In modo che possa capire bene Come voglio piegare le mie foglie E faccio Questi rientri 1 Segno la parte centrale E poi Segno anche Le pieghe delle foglie E all'interno Della fogliolina Lì dove c'è tanto spazio Faccio un buchino Tipico delle foglie Di questa pianta Definita Quella che voglio Sia la forma Della mia foglia La rifilo Con un cutter Adesso con il dito O con delle mirette Le mirette Sono queste spatoline Qui Per il DAS Che non vi avevo letto All'inizio Ma perché potete sostituirle Con qualunque cosa Con un bulino Con Una spatolina Con un coltellino Con quello che avete Creiamo Quelle che sono Le linee E adesso Prendo L'acqua Il mio dito E ammorbidisco Tutto ciò Che ho scavato Ammorbidisco Innanzitutto Armonizzandoli I bordi In modo da renderli Lisci e puliti Le linee E non vi preoccupate Per i segni Della matita Perché tanto dopo Andremo a Dipingere Prendo la mia ciotolina Delicatamente Stacco Il lavoro Dal tappetino Voilà E la Capovolgo Sulla ciotolina Da cui voglio Che tragga La forma Ok Anche qui Con la spugnetta Liscio Tutte quelle parti Con la spugnetta O con la miretta Io lo farò Con entrambi Liscio bene Tutte le parti Che voglio Ben chiuse E adesso Metto il tutto In forno A 60 gradi Per un'oretta Circa E faccio Asciugare Molto Velocemente Nel frattempo Mi diletterò Magari a fare Qualche altra Fogliolina Anche più piccola Io lo metto Nel normale Forno da cucina Che poi Mi premurerò Di rilavare E di Mandare Con un giro A vuoto Con una leccarda Piena D'acqua In modo da far Evaporare Tutta l'acqua E quindi Disinfettare E quindi disinfettare Profondamente Il forno Dopo averlo usato Per la pasta Modellabile In forno A 60 gradi Per un'oretta Circa Dopo Un'oretta Li ottenuti A 70 gradi A un certo punto Ho alzato La temperatura Tocca Carteggiarli Un pochino Io ho qui Della carta abrasiva Già utilizzata Che per questi Lavoretti È perfetta Voi direte Scusa Ombretta Ma perché È già utilizzata Perché Quando è già utilizzata Graffia meno Ed è più morbida E quindi Più Malleabile Con questa Come vedete Vado a lisciare Tutti i margini E le eventuali crepe Che si sono formate In cottura Dopo aver finito Di carteggiare Il tutto Quando siamo Soddisfatti Totalmente Del modo In cui abbiamo Carteggiato Con un pennello Bagnato Ma non Grondante Appena bagnato Passiamo Su tutto Eliminiamo La polvere In eccesso E fissiamo Quelle parti Di polvere Che altrimenti Darebbero fastidio Durante La fase Di pittura Siamo pronti Per dipingere Prendiamo Dei colori acrilici Come vi ho detto Io userò Il verde Naturalmente Per la foglia Mi piace di più Un bel verde Smeraldo Bello cupo Che darò Su tutto Con la prima mano Non sarò Per niente Avveduta Passerò Così Molto Superficialmente Su tutto Perché devo Coprire Coprire Bene Mentre Questa Asciuga Mi dedico A fare le altre Che ho fatto Senza di voi In off camera Naturalmente Come ho fatto La prima Ne ho fatte Anche due Più piccine Senza fori Perché Essendo più piccole Non ho reputato Opportuno Inserirli Anche perché La monstera Fa i fori Quando sviluppa La foglia grande E adesso Do una seconda mano Seguendo però L'andamento della foglia A questo punto E poi Metto Un verde chiaro E un verde scuro Insieme Sul pennello E passo così Strisciando un po' Il retro Invece Lo colorerò Anche Ma lo colorerò Con un nero verde Quindi Prendo il nero E lo passo Proprio tutto Dietro Così Per dare Proprio un aspetto Super moderno E di contrasto Perché poi Tra il nero E il verde Ci sarà Il dorato Sul bordo A questo punto Dobbiamo Rifinire I bordi È quasi pronta Scusate le mani Ma le laverò Solo alla fine Perché ora Continuerò a sporcarmele Io userò Un marker dorato Lo trovate In tutte le cartolerie Io credo Questo di averlo acquistato Alla Lidl Altro non è che Un colore Acrilico Dorato Metallizzato Quindi Vedete Ha una bella Bellissima Specchiatura Voilà Visto che bello Viene cromato Allora Piano piano Tutti i bordi Naturalmente Quelli esterni Sarà più semplice Realizzarli Noi dobbiamo andare Sino all'interno Potrei anche usare Del pigmento Con della gomma lacca Da stendere a pennello Mi risulterebbe Sicuramente Più semplice Soprattutto Per le parti interne Provo anche questa soluzione Insieme a voi Sono tutti Così vi faccio vedere Le diverse Rese Prelevo Un po' di pigmento Lo metto qui Prendo la gomma lacca Prendo un pennellino A cui non tengo Particolarmente Mescolo insieme E sì Anche lui Ha un bellissimo Grado di specchiatura Guardate E si fa Molto più velocemente Ok Passato su tutti i bordi Lascio asciugare Perfettamente E quindi Non più di 10 minuti E asciuga subito La gomma lacca E quindi Ci vediamo Dopo Per La verniciatura Finale Eccoci pronti Per passare Il flatting Io userò Un flatting All'acqua Lucido E ne passerò Due Tre mani Se dovete Porre questi oggetti All'esterno Arrivate fino a Cinque mani Di flatting Facendo asciugare Benissimo Tra una mano E l'altra Passare il flatting È molto semplice L'importante È stirarlo bene E non lasciare Gocciolone Che pendono Da una parte O dall'altra Quindi Farò Prima Tutta la parte verde Facendo attenzione A sigillare Anche Tra Le foglie Lì dove si creano Gli orefizi E Gli interstizi Quindi Sia interstizi Che orefizi Ben Sigillati Mi raccomando Dopodiché Fate asciugare Completamente Ripetete L'operazione Fin quando Non saranno Belle Specchiate Luminose E Super Protette Io Continuo Il mio Lavoro Voi Lo vedrete Poi Dopo Bello E Ultimato Nelle Foto E Poi Ci rivediamo Subito Dopo E Ve le Faccio Vedere Anche Live Queste Belle Fogliolone Di Monstera Vuoro avreste mai pensato che bastava uno di questi per fare questo beh io se l'avessi visto sul tavolo di una mia amica avrei pensato che era un pezzo di design veramente costoso guardate che rilucente è loro voglio farvele vedere live guardate che bella questa piccolina l'ho fatta senza forellini e deliziosa e poi c'è quella ancora più piccina come avete visto in foto tipo piattino piccolissimo così bene questo sarà solo uno dei lavori estivi che faremo con le paste modellabili potete tranquillamente usare anche le paste modellabili contenute all'interno del ricettario dell'arte ce ne sono tantissime e moltissime come per esempio la pasta di mais idonee a questo tipo di lavoro adesso basta chiacchierare vi lascio alle vostre foglie di mostera preparatene tantissime per rendere la vostra casa una casa estiva tropicale dai sentori esotici vi mando un grande bacio ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo da ombretta ed arte per te tutto alla prossima volta